Andrea Chioda Revisoreto es artista Chiudete gli occhi e pensate ad una persona, che ha fatto delle grandi scoperte scientifiche. Ce l'avete in mente? Ok, riapriteli. Quindi, quanti di voi hanno pensato ad uno di loro? Alzate la mano. Ok, va bene ma quanti hanno pensato ad Einstein? Eccomi. Quanti di voi invece hanno pensato ad una di loro? Decisamente meno mani. Sono Corinna, sono una scienziata e non sono Einstein. Il mio primo esperimento l'ho fatto quando aveva l'incirca otto anni. Non mi convinceva il fatto che la scrittura di Babbo Natale fosse molto simile a quella della Befana. Così un giorno decisi di venirne a capo. Presi un foglio e scrissi, caro Babbo Natale, se tu esisti domani questa lettera non ci sarà più. Piegai il foglio in quattro e lo misi nella finestra. Andai a dormire senza dire niente a nessuno. Il giorno dopo mi svegliai e tutta contenta corsi alla finestra, l'apri e la lettera era ancora lì. Così alla fine trassi le conclusioni del mio esperimento e per un bel po' rimasi convinta del fatto che Babbo Natale non esistesse, ma la Befana sì. A quel tempo passavo la mia giornata tra la scuola e la palestra, dove mi allenavo, facevo ginnastica. Se mi chiedevano cosa volessi fare da grande avevo già un sacco di idee. L'atleta olimpionica, la ginnasta olimpionica, la trapezista del circo oppure l'astronauta. Poi crescendo capì che forse non sarei andata alle Olimpiadi, né tantomeno nello spazio, ma continuarono a regalarmi telescopi e così alla fine mi scrisse ingegneria. Dopo qualche anno dovetti decidere dove fare la mia tesi di laurea e ci provai. Feci domanda al CERN, il più grande laboratorio di fisica delle particelle, e mi accettarono. Così partì, mi trasferì a Ginevra. I primi mesi mi sentivo come dentro a un frullatore. Non parlavo una parola di francese e passavo la mia giornata in mezzo a scienziati di tutto il mondo, con storie e background completamente diversi. Avevo veramente la sensazione che stessimo facendo qualche cosa di grande. Così mi ci volle ben poco per innamorarmi della ricerca e decisi di continuare facendo un dottorato in fisica, che mi portò a lavorare e a vivere tra la Svizzera e la Finlandia. E così alla fine capì che forse da grande volevo fare la scienziata. Quando racconto quello che faccio alle persone, di solito sono sorprese, non se lo aspettano. E principalmente ricevo due tipi di reazioni. La prima suona più o meno così. Fisica? Mamma mia, che roba da nerd! Non potevi fare qualche cosa più da donna? E la seconda? Fisica? Oh mio Dio, è difficilissima! Io non ci capivo niente a scuola, non ti chiedo quello che fai perché tanto non lo capirei. Anche io volte non lo capisco comunque. Ecco, mi sono resa conto che viviamo in un mondo dove sembra che tra la scienza e la vita di tutti i giorni ci sia una distanza incolmabile. Oggi insieme a voi vorrei cercare di capire il perché e provare a convincervi del contrario. Perché penso che essere un pochino più inclusivi verso la scienza fin dai primi anni dell'infanzia possa aiutarci a crescere degli adulti più preparati, più consapevoli e quindi a crescere come società. Innanzitutto, se ci pensate, siamo stati tutti scienziati nella nostra vita. Quando eravamo piccolini, che muovevamo i primi passi nel mondo, esploravamo, volevamo capire come funzionavano le cose e facevamo tante domande. Ecco, questa curiosità e questo desiderio di conoscenza sono anche alla base delle scienze. Tuttavia però poi talvolta i bambini crescendo sono esposti ad una serie di fattori deterrenti a casa o a scuola che fanno sì che questa curiosità vada un po' a scemare. Il primo fattore deterrente riguarda il 50% della popolazione ed è un fattore di genere. Infatti i bambini e bambine non sono stimolati allo stesso modo verso le materie STEM, che sono tutte quelle materie che includono le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. L'idea che le bambine siano meno portate alle materie scientifiche è uno degli stereotipi più difficili da sradicare. Diversi studi hanno evidenziato come questo sia effettivamente un problema. Infatti si è visto che mediamente le bambine ottengono risultati più bassi dei bambini nei test di matematica. E se alcuni scienziati, pochissimi, e personaggi pubblici hanno cercato di dare delle spiegazioni biologiche a questa cosa di genere, la maggior parte della comunità scientifica invece ha lavorato per dimostrare il contrario, cioè che queste differenze non sono dovute a fattori biologici, perché bambini e bambine hanno le stesse capacità cognitive, cioè il loro cervello davanti a un problema matematico funziona allo stesso modo. Ma anzi, queste differenze sono dovute a fattori socioculturali. Vi faccio alcuni esempi. Tra i 4 e i 7 anni i bambini hanno maggiori capacità spaziali delle bambine. I genitori però hanno anche riportato di passare più tempo a giocare con le costruzioni, con i loro figli, piuttosto che con le loro figlie. E si sa, è provato, che questo tipo di giocattoli aiuta a sviluppare una serie di capacità come quelle spaziali o di problem solving o concetti di simmetria. Vi basterà quindi fare un giro per il reparto giocattoli del supermercato per capire come già le bambine partano svantaggiate in questo. fatto. La buona notizia però, perché c'è una buona notizia, è che nei paesi con una maggior parità di genere questa differenza nei risultati di matematica va ad assottigliarsi fino a scomparire. Uno studio presentato da un gruppo di ricercatori italiani ha considerato 40 paesi diversi per un totale di 270 mila ragazzi di 15 anni. E si è visto, hanno stilato una classifica. E si è visto che sul podio non ci stupirà magari sapere che troviamo i paesi del nord Europa, con Norvegia e Svezia, dove bambine e bambine ottengono risultati equiparabili. L'Islanda, Primeggia, dove le bambine ottengono risultati più alti. In fondo alla classifica abbiamo Turchia e Corea del Sud. E l'Italia? Secondo voi dove si posiziona l'Italia? Nella metà più bassa della classifica, ad evidenziare quanto questo ancora sia un problema all'interno della nostra società. Un secondo fattore deterrente magari potrebbe risultare un pochino più familiare da qualcuno di voi. Ed è la fobia che si viene a creare verso alcune materie scolastiche. Nel mio caso era il latino, ma molto spesso sono materie scientifiche. Infatti ci sembrano materie astratte, poco applicative, lontane dalla vita di tutti i giorni. Quante volte ci siamo chiesti a me questa roba qua cosa mi servirà? E così se queste materie vengono insegnate solamente sui libri, tralasciando tutta la parte sperimentale, si perde tutto il processo creativo e di immaginazione. Così magari impariamo dei concetti di ottica, ma non prendiamo mai in mano una macchina fotografica. Oppure studiamo la chimica, ma non sappiamo leggere le etichette dei cibi che compriamo. Se ci si focalizza solamente sulle regole, è come se volessimo insegnare la musica, ma solo in teoria, senza mai suonarne una nota. Non ci stupirà quindi poi che queste materie ci sembrano noiose, difficili, spaventose. E quindi abbiamo detto la concomitanza di questi due fattori deterrenti. Da una parte i fattori socioculturali, dall'altra la fobia che si può venire a creare verso alcune materie, fanno sì che a volte i bambini perdano un po' interesse verso quella materia, si impegnino meno, ottengano risultati più bassi. Quindi pensino di non esserne capaci e si impegnino ancora meno. E questo va ad alimentare un loop e una concezione di se stessi e delle proprie capacità che poi difficilmente si riesce a colmare durante l'adolescenza o l'età adulta. E così solo pochi continuano poi ad informarsi, a leggere articoli di divulgazione scientifica. La maggior parte delle persone invece, reduci dai ricordi scolastici, appena sentono parlare di scienza, si terrorizzano e scappano. Magari vi siete ritrovati in quello che ho detto. E magari poi, crescendo, diventando adulti, vi è anche capitato di sentirvi disorientati davanti alle domande dei bambini, le stesse che facevate voi quando eravate piccoli. Esistono gli alieni? Come fanno le stelle a stare in cielo? Perché il mare è blu? Ecco, se vi è successo, magari vi consolerà a sapere che non siete soli. Infatti nel Regno Unito hanno intervistato circa 2000 genitori e hanno visto che due terzi di loro non sa rispondere alle domande di scienze dei loro figli. E di questi, se un 25% cerca la risposta online, un altro 20%, pur di togliersi da quella situazione, dice che nessuno lo sa, oppure si inventa una risposta. Ecco, magari no. Va benissimo che i genitori non abbiano le risposte alle domande dei loro figli. Infatti le possono cercare insieme. Fare scienza non significa avere le risposte a tutte le domande, ma semplicemente sapersi porre le domande nel modo giusto. Come? Con il pensiero scientifico. Questo è composto da una serie di passaggi. Tutto parte da un'osservazione. Ci facciamo una domanda che ci sembra interessante. Perché il mare è blu? Perché la scrittura di Babbo Natale e della Befana sono le stesse? E dopodiché quello che il nostro cervello fa è sviluppare un'ipotesi. Cioè costruiamo una teoria per rispondere alla nostra domanda. Ok, uno dei due probabilmente non esiste. Ma gli scienziati non si accontentano di fermarsi qui. Vogliono sapere se la loro ipotesi è vera o no. E quindi fanno una predizione. Dicono se la mia ipotesi è vera, allora vedrò anche questa cosa qua. Domani la lettera non ci sarà più. Sviluppano un esperimento, raccolgono i dati e traggono le conclusioni. Talvolta le conclusioni ci portano al fatto che la nostra ipotesi sia vera. Ma molto spesso non è così, quasi sempre. Tipo il mio caso. Tuttavia però la ricerca di prove scientifiche è un'attività estremamente difficile ed innaturale. Infatti l'evoluzione non ci ha modellati per ricercare la verità. Perché l'appartenenza ad una tribù ha molto più valore rispetto all'accuratezza oggettiva. È molto più facile trarre conclusioni basate su opinioni personali, bias culturali o ripetere quello che sentiamo dire, piuttosto che sui fatti e le osservazioni. Ma forse ognuno dovrebbe chiedersi, è proprio quello che voglio? Allenare il pensiero scientifico può aiutarci ad invertire questa tendenza. Non accontentarci di sviluppare un'ipotesi, ma voler sapere se questa è vera o falsa ci aiuta a distinguere tra ciò che è vero o falso e aumenta la criticità verso le nostre idee. Tutto bello, direte voi. Mi hai convinta. Però a me sta roba cosa mi serve? Tanto quanto gli integrali che imparavo a scuola. E invece no. Questo non è utile solamente a fisici o ingegneri, ma può essere utile a tutti nella vita di tutti i giorni. Infatti ci puoi aiutare a saper riconoscere le trappole, ad orientarci meglio rispetto a quello che leggiamo online. Pensate alle fake news. Ma anche a diventare dei cittadini più consapevoli. E vi spiego perché. Viviamo in una società che è frenetica ed in continua evoluzione. Il bagaglio scientifico e tecnologico raddoppia ogni 15-20 anni e questo continuerà per tutto il secolo. Pensate a com'era la nostra vita 20 anni fa, quando non esistevano gli smartphone, non c'erano i social e ci facevamo gli squilli per risparmiare il credito. Stiamo assistendo ad enormi rivoluzioni scientifiche e tecnologiche. Solo per citarne qualcuna. Pensiamo al problema del surriscaldamento globale, alla transizione energetica, alla digitalizzazione, ma anche alle intelligenze artificiali, alla genomica, alla blockchain. Volenti o nolenti la tecnologia entrerà sempre più a far parte delle nostre vite e questo ci metterà di fronte ad una serie di problemi etici e politici. Infatti con le nostre scelte siamo chiamati a decidere le sorti della nostra generazione e di quelle future. L'unica cosa che possiamo fare è farci trovare pronti, consapevoli. Come? Divulgando la scienza e avendo voglia di ascoltarla. Non facciamoci trovare impreparati, perché il mondo ha bisogno di questa consapevolezza, enormemente. Grazie.